Ciao ragazzi, sono Federico Schwarz, siamo su Outpump con la Dark Polo Gang per fare un po' di shopping qui in negozio a Brescia da one-off partnership tra Folli Follie e GEB. Mets a match? Oppure un brand solo? Sì, noi ci piace sempre matchare, tipo Power Rangers. Oggi matchamo poco, però... Oggi non matchamo tanto. Ma vorreste trovare un brand unico per tutti e tre o vorreste fare delle cose separate? Di solito sì, facciamo così. Fate un brand unico, tipo Power Rangers. Però è complicato oggi. Sì, oggi è complicato. Qua non è mai facile trovare tre cose per tutti e tre, lo stesso brand. Com'è? Siete casati per il tour? Sì, bro. Bomba, bro. L'altro braio al Fabric. Al Fabric? Sì. Raga, invitatemi. Certo. Certo, bro. Tre marzo invece a Roma. 15, 15 marzo. 15 marzo a Roma. 15 marzo a Roma. Balli caldi. Sì. Sarà figo secondo me perché comunque ci teniamo pure a tutto quel lato del vestiario. Sì, però è chiaro. Quindi cercheremo di mettere solo chicche. Ma se dovessi scegliere adesso un brand, cosa sceglieresti da indossare probabilmente? Beh, non lo so. Noi abbiamo puntato comunque a dei brand tipo da Palm Angels, White, Marcelo. Sì, sì. O comunque anche Gucci. Beh, comunque vedendo anche un po' come siete qui oggi, mi sembra che ci sia una bella ricerca. Nel senso, siete molto interessati a quello che fate. Qua è super fornito che non è facile trovare poi negozi così forniti. E qualcuno di nuovo sulla scena italiana che vi piace? Come... Come designer. Formi. Film in studio. Danilo Paura. Condomenico, Danilo. Danilo Paura spacca. Triplo set e wear. Triplo set e wear. Questo c'è il sotto. C'è già la parte sotto? Sì. Una bomba. Questo pure spacca. Questo pure spacca. Spiodata questa. Che dici, potrebbe andare bene anche per la volta di Roma? Sì, magari tre bomberini Gucci. Ma ti piacerebbe tenere comunque... Tanto, sicuro non ci sono le taglie. Facciamo una prova? Questa spacca di brutto. Questo cos'è, Valentino? Proprio figa. Sì. E scarpe? Boh, io pensavo di prendermi quella Dior che ho già visto la taglia. Le scarpe? Questo pure figo. Quella argentata. Anche perché c'erano tutti i colori, non mi posso mancare l'argentata. Hai tutta la linea di Calvin Klein. Questa cosa c'era Calvin. Sì. Questa è Raffa, no? Questo è Calvin Klein. Calvin, per realtà. Ha fatto la Raffa. Che ha fatto tutto il presente. Allora c'era il mio fratello Raffa Simons. Raffa Simons. Raffa Simons. Raffa Simons. Raffa Simons. E questa vuoi provare? Ah, davvero? Ah, te lo volevo provare? 46. Raffa Spack. Tu hai visto qualcosa? Ma io di solito ci metto un po' di più. Ci metti? Sì. Un cortotere in più. L'ho preso una cosa che mi piace subito. Adesso mi ha chiesto la roba su di Valentino. Volevo proprio il money. Prova dopo la Palm con le barche o la Spack. Sì, quello pure va fruoto. Comunque ora vedo. Di solito quando siamo indecisi ci chiediamo le cose a bigliano, quindi adesso devo chiedere a Tony se mi sta bene o no. No, però pezza sciocca. Io non lo so. Sono figli o no? Sì, sono figli, però... Guarda tutti, c'è. Questo? Questa è l'unica. Questa è l'unica. Questa è l'unica. Sì, va! Mi chiede il Rezegai adesso, eh! Tutto velluto, Cineglia Alegans Beach, San Lorano Sì, va! Ci aprite con la gang, bitch! No, ragazzi! Allora avete trovato tutto quello che cercavate? Sì, sì! Pronti? Sì, sì! Quindi buona giornata oggi passata, eh? Sì, sì! Da one-off, capisci? Sono contento! Bella per one-off! Torniamo sicuramente! Bella! Bella! Bella, ragazzi! Un saluto anche da me, Federico Schwarz e da Alfa! Gang gang! Esch, gare! Ci becchiamo a Roma!